Finalmente ce l'hai fatta Mia mano è giuendino, non ha rungo E vai! Vai Luca! Preparate la borsa, dobbiamo andare a Pavia A Pavia? Come fa? Ma c'è un treno nordista? E' incredibile quello che sta succedendo qui fuori al Maradona Tutta Napoli è in festa, è una vittoria azzurra, una festa azzurra Per aggiudicarsi lo scudetto qui nell'afferzario Ma non mi capisci che vincimmo come su Magnoquaz Lorenzo Io so proprio che fine ha fatto E non sai niente?